Scuola, 10 istituti nella tagliola del dimensionamento forse una soluzione, la deroga per le zone montane. In merito alla notizia sul dimensionamento scolastico che in provincia sta sollevando numerose polemiche e critiche da parte di addetti ai lavori delle famiglie e degli studenti, Azione Provinciale Siracusa ritiene doveroso fare chiarezza al fine di trovare le soluzioni a scongiurare il completamento di un iter che porterebbe alla riduzione dell'offerta formativa alla popolazione della provincia di Siracusa. Bisogna evidenziare che il paventato dimensionamento degli istituti scolastici della provincia di Siracusa è il frutto di un decreto licenziato dal Governo nazionale che tiene conto solo dei freddi numeri dettati dalla statistica senza tener conto delle realtà territoriali così differenti da regione a regione, da provincia a provincia. Differenze che dovrebbero essere fatte valere in quegli organismi come la conferenza provinciale dove dovrebbero prevalere interesse comune della provincia e non campanilismi tra le amministrazioni. Diversamente si sacrificheranno istituti che nonostante abbiano requisiti per mantenere l'autonomia finiscono nella tagliola del dimensionamento. Paradosale è il caso dell'istituto comprensivo Sant'Alessandra e Rosolini che citiamo come esempio che pur possedendo tutti i requisiti richiesti ad un istituto comprensivo per mantenere l'autonomia in termini di iscritti, di classi e di numero di insegnanti sempre in crescita negli ultimi cinque anni è stato tra i dieci istituti della provincia ad essere sacrificato in nome del dimensionamento scolastico dettato dai soliti presunti risparmi economici che sempre prevalgono sulla qualità e la buona gestione dell'offerta formativa. Stessa sorte per il brancato di Pacchino smembrato tra Verga e Pellico e il Bartolo che perderebbe l'autonomia e verrebbe accorpato al Callevi. Sì, dieci istituti scolastici, questo sacrificio è chiesto ad una realtà come la provincia di Siracusa alla stregua delle città metropolitane di Palermo e Catania e questo è stato fatto senza tener conto della complessità territoriale della provincia di Siracusa e del tessuto socio-economico che potrebbero scongiurare la perdita dell'autonomia scolastica di alcuni istituti della provincia. Infatti la presenza di una estesa zona montana con comuni di piccole dimensioni che consentono di porre deroghe ai numeri del dimensionamento può costituire la soluzione al problema chiedendo che il dimensionamento scolastico in provincia di Siracusa venga ridotto nel numero di accorpamenti tra istituti scolastici. Convinti che vi sia la necessità di mantenere l'autonomia scolastica dell'istituto Kindemi a Siracusa quale importante baluardo di legalità nel quartiere Grotta Santa è osservatore provinciale contro la dispersione scolastica. In un quartiere obiettivamente problematico a rischio di povertà educativa nella realtà all'avanguardia come il Kindemi non può essere sacrificata solo per la mancanza di 11 iscritti come da mandato conferito dal Consiglio Comunale al Sindaco di Siracusa Francesco Italia. Pertanto Azione Provinciale Siracusa chiede alla Deputazione regionale di attivarsi nel chiedere la deroga al dimensionamento provinciale per le motivazioni che abbiamo esposto con la riduzione degli accorpamenti degli istituti scolastici interessati. Questa è la dichiarazione di Pippo Incattasciato, segretario provinciale di Azioni.